Ritorniamo in studio. Incidente mortale sull'Aurelia al km 84 e 300 all'altezza del Ponte del Mignone nel comune di Tarquinia. Un giovane 31enne di Tarquinia è morto infatti nel tardo pomeriggio per cause al vaglio della polizia stradale. Due auto, una fiesta e una appunto si sono scontrate frontalmente. Due persone sono rimaste invece gravemente ferite. Una ragazza di Civitavecchia è stata trasportata in ambulanza presso l'ospedale San Paolo di Civitavecchia. L'altra invece è una minorenne, versa in gravi condizioni e per questo è stata trasportata in elicottero presso il Policlinico Gemelli di Roma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Civitavecchia e Viterbo. Secondo una prima sommaria, ricostruzione a generare lo scontro potrebbe essere stata una tardata manovra di inversione di marcia. Archiviazione totale per mancanza di condizioni. Questa è la decisione del GIP del Tribunale di Civitavecchia su proposta del PM in merito al procedimento di abuso d'ufficio a carico del sindaco Mazzola. Stiamo parlando naturalmente di Tarquinia. Il caso è il concerto di beneficenza organizzato dall'Associazione Semi di Pace nel febbraio 2011 presso la chiesa di Santa Maria in Castello. Il primo cittadino esprime soddisfazioni e al coltempo si scaglia contro il PM che lo ha indagato. Ho agito nella massima chiarezza e trasparenza. Questa è una dura lezione per chi tentò di creare e strumentalizzare la vicenda. I pronunciamenti del PM e del GIP dimostrano quanto io e la mia difesa abbiamo sempre sostenuto. Ovvero che la denuncia era inficiata da una non corretta rappresentazione dei fatti, nonché da una grossolana e sbagliata indicazione delle norme giuridiche di cui fare applicazione ha fatto tutto quanto per tutelare le fasce sociali più deboli. Ha creato polemiche a Santa Marinella l'ordinanza del sindaco Roberto Bacheca che limita da lunedì le lezioni degli studenti delle scuole medie per consentire alla ditta che sta effettuando i lavori per la messa in sicurezza dell'istituto di chiudere il cantiere. Sulla vicenda erano intervenute le opposizioni che avevano criticato fortemente le decisioni del sindaco. Come sempre, afferma il primo cittadino, la visione superficiale degli atti da parte degli esponenti di minoranza fa sì che dichiarino cose di poco assurde. Le scuole di Santa Marinella godono di ottima salute e sono tra le più sicure dell'intera provincia di Roma. E gli interventi che stiamo terminando in questi giorni altro non sono che adebimenti di legge. Foto voltaico. Dopo la chiusura dell'accordo tra le aziende locali e la multinazionale San Edison, la società responsabile della manutenzione dell'impianto situato in località Caprarecce a Montalto di Castro prende la parola all'imprenditore Proietti Paoloni della Tecnoenergie in risposta alle dichiarazioni del sindaco Caci che aveva espresso soddisfazione per aver contribuito attivamente alla chiusura delle lunghe trattative. Paoloni si dichiara dispiaciuto per la sua situazione che ad oggi non è ancora giunta al termine, non avendo lui accettato quella che definisce una misera proposta da parte della San Edison e annuncia di voler presentare denuncia contro l'Albano Alternative Energy, San Edison e Montealto per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Avendo a disposizione, arrivare all'imprenditore documenti molto importanti e utili per le indagini dei nostri magistrati. Sicuro che verificheranno tali documenti con attenzione e gli spostamenti di denaro effettuati tra le società. Ha preso il via oggi a Tolfa la radica, ossia la due giorni di festa dedicata alla Tolfa in Italia e alla riscoperta delle tradizioni, degli usi, costumi, cibi, giochi e abitudini del passato. La festa delle tradizioni popolari che si sta tenendo in collina è stata organizzata dai ragazzi di Generezione 90 che hanno lavorato in sinergia con l'amministrazione comunale. Bene, adesso lasciamo nuovamente spazio alla pubblicità. Ci vediamo subito dopo con lo sport. Grazie a tutti.